Alle porte c'è il primo fine settimana del mese di giugno, il primo weekend estivo, richiamerà Salernitani e non sulle spiagge cittadine, quelle attrezzate ma anche sulle spiagge libere. Nessun affidamento dei servizi pubblici sugli arenili liberi per questa stagione 2024 e questa è la decisione del comune di Salerno. Sulle spiagge libere intanto in mattinata erano a lavoro gli operai con l'escavatore, sono state poi anche raddoppiate le docce sull'arenile di Santa Teresa dove intanto a breve dovranno essere sospesi gli interventi per il restyling del solarium dopo la conclusione del primo lotto di lavori. Salerno Pulido svolge questo servizio con catenza nei mesi essivi credo addirittura quotidiana, quindi le spiagge le stiamo predisponendo. È pronto il primo lotto dell'arenile di Santa Teresa, la nostra spiaggia storica del centro storico, si sospenderà per un attimo perché si celebra l'annuale gara di calcio su sabbia, subito dopo riprenderemo i lavori e porteremo a termine tutta l'opera. Spiagge libere, libere, prudenza per i bagnanti ma è tutto predisposto, sul solito stiamo facendo i lavori di ripascimento, il secondo lotto che è importantissimo e quindi le spiagge libere aumenteranno come dimensione e come quadratura nei prossimi mesi.